Sono contralissimo, penso sia una grande paese in giro, la Meloni è Presidente del Consiglio come farà a fare la campagna elettorale e poi non andrà a fare l'europarlamentare, lo stesso è l'Islam a meno che non decida di andare a fare l'europarlamentare. Noi stiamo ragionando del futuro dell'Europa, non possiamo pensare che il tema è una contesa interna, dobbiamo parlare dei programmi, delle politiche europee, di quello che vogliamo andare a fare, ma ingannare questi cittadini no.